Oggi vi porto in Grecia, andiamo precisamente allo stretto passo delle Termopili, ci mettiamo anche noi in formazione, difendiamo il passo dai barbari persiani e lo facciamo attraverso le parole nella fonte principale che è le storie di Erodoto. Oggi vi porto in Grecia, andiamo precisamente allo stretto passo delle Termopili, ci mettiamo anche noi in formazione, difendiamo il passo dai barbari persiani e lo facciamo attraverso le parole nella fonte principale che è le storie di Erodoto. Andiamo ad alcuni passi salenti del settimo libro, quelli riguardanti la figura del grande re spartano Leonida e poi ci immergiamo nel terzo giorno dei combattimenti e appunto l'episodio del tradimento di Fialte e la morte del grande re e degli spartani. Andiamo ad appurare anche la veridicità di alcune rappresentazioni cinematografiche, come faccio riferimento a Trecento e alla traduzione in un graphic novel che ha valore figurativo, scenico e diciamo per il pubblico anche catartico in un certo senso. Ma noi oggi andiamo ad appurare come si svolsero i fatti e ce li descrive appunto il grande storico dell'antichità, Erodoto. Nel settimo libro si presenta così la figura di Leonida, parte con una lunga genealogia che vediamo che figlio di Dorisso, figlio di Leobote, figlio di Echestrato, figlio di Agide, figlio di Euristene, figlio di Aristodemo, figlio di Aristomago, figlio di Cleodeo, figlio di Illo, figlio di chi? Di Eracle. E qui subito c'è questa presentazione genealogica importante, epica, che Erodoto dedica solo ai personaggi più importanti e quelli che vuole che gli sia dato il massimo onore, massimo pregio, che tiene il massimo pregio e stima, Erodoto, e che riserva, come ho detto, a pochissimi personaggi nelle sue storie. A chi risale il grande re Leonida? Si fa risalire al mitico, cacciatore di belve, di uomini, indomabile guerriero al mitico Eracle, uno degli eroi della crescita mitizzata. Leonida era venuto in possesso della dignità regala a Sparta in modo inaspettato. Perché dice questo Erodoto? Perché specifica che Leonida aveva due fratelli maggiori, di quali uno morì Cleomenem senza lasciare figli maschi e l'altro, Dorieo, morì anche lui in Sicilia e quindi il trono era passato a aver toccato a Leonida sia perché era maggiore di Cleombrodo, che era il più giovane dei due figli di Anassandrida, che era il padre di Leonida, sia perché aveva sposato la figlia di Cleomene. Quindi Leonida si regola ai Tebbani, dopo essersi scelto i 300 uomini previsti dalla legge dotati di figli, arrivò conducendo con sé anche dei Tebbani, qui da una figura che non c'è nel film, i Tebbani, dice Erodoto che ho menzionato facendo il computo delle truppe, a capo dei quali vi era Leontia dei figli di Eurimaco. Leonida si era preoccupata di prendere con sé i Tebbani, unici tra i greci per questo motivo, erano accusati con insistenza di parteggiare per i Medi, pertanto li sollecitava alla guerra, si parla del soggetto di Leonida, per vedere se avrebbero mandato un contingente o se avrebbero rifiutato appartamente l'Alleanza con i Greci, e i Tebbani, benché fossero di tutto altro orientamento, inviarono i soldati. Quindi vediamo un'altra presenza sul campo che erano i Tebbani, vedremo anche in seguito gli altri alleati. Immergiamoci subito nel terzo giorno di combattimenti contro i persiani, contro le reserse, e l'episodio clou della vicenda che è il tradimento di Fialte. Quando il re non sapeva più che fare in quella circostanza, ecco che venne a parlare con lui un uomo dell'Amalide, Fialte figlio di Euridemo, sperando di ricevere dal re una grossa ricompensa, e gli indicò il sentiero che attraverso la montagna portavalle Termopili, e così causò la rovina dei Greci che la avevano resistito. Più tardi, per paura degli Spartani, Fialte fuggì in Tessaglia, e dopo la sua fuga, durante la riunione degli Anfizioni, per l'Assemblea delle Termopili, i Pilagori, misero una taglia sulla sua testa. Chi sono i Pilagori? I Pilagori dovrebbero essere i rappresentanti delle varie città, dell'anfizionia delfica. In questo caso vediamo che esercitano un vero e proprio potere giudiziario. Il nome deriva dal fatto che le Termopili erano il luogo in cui si riunivano i Pilagori. In seguito, tornato ad Anticida, morì per mano di Atenade di Trachis. Atenade uccise Fialte per un altro motivo che sporrò nel proseguo della mia narrazione. Qua non ci interessano le varie versioni sulla morte di Fialte, che Erodoto ci narra entrambi, un'altra versione secondo la quale Fialte venne ucciso da un uomo di nome Caristo, però Erodoto non è a favore di questa tesi. La confuta dicendo che Costoro, quest'altro uomo che avrebbe ucciso Fialte, non gli venne messa una taglia sulla testa e inoltre non poteva conoscere bene il territorio come Fialte, che era proprio della Malide. E poi vediamo come ci spiega meglio questo sentiero delle Termopili, dove era situato e come era composto geograficamente. Cerse apprezzò quanto Fialte prometteva di fare e subito, tutto contento, fece partire i Darne e i suoi uomini. Si mossero dall'accampamento all'ora in cui si accendono le lucerne. Questo sentiero era stato scoperto dai maliesi del luogo. Dopo averlo scoperto, attraverso tale sentiero, avevano guidato i Tessali contro i Focesi. All'epoca in cui i Focesi, sbarrato il passo con un muro, erano al riparo dalle loro azioni di guerra. Da tanto tempo si era dimostrato di nessuna utilità per gli abitanti della Malide. E questo è l'excursus antequem al discorso di Leonida, che spiega un po' come era stato da chi era stato scoperto questo passo dai maliesi nell'episodio contro i Focesi. E che poi in seguito vediamo che si era rivelato inutile per di nessuna utilità strategica. E vediamo invece in questo caso come fu l'importanza strategica per l'asserragliamento e la disfatta dei persiani in questo fine agosto del 480 a.C. E siamo in piena guerra persiana. Ed ecco come si presenta il sentiero. Comincia dal fiume Asopo che scorre attraverso la gola del monte. La montagna e il sentiero hanno lo stesso nome, Anopea. Questo sentiero chiamato Anopea si snoda sul crinale del monte e termina...